Noi siamo un'azienda che produce e confeziona questi prodotti qua, specialmente la cipolla bianca di Margherita, da due anni è diventata GP e prevalentemente facciamo cipolle, carote e patate. I nostri clienti possono beneficiare dei nostri prodotti tutto l'anno, tranne la cipolla bianca di Margherita perché è fatta specificamente in un periodo che va da aprile a luglio. Qui siamo proprio in un territorio che è stretto e lungo, si ha visto Margherita come è, da un lato abbiamo il mare e da un lato la salina, quindi meglio di qui, sono pure saporite le cipolle, che abbiamo il sale dappertutto. Proprio per avere l'IGP si vede che è un prodotto caratteristico tipico che è da più di cento anni che viene coltivato in questa zona qui, solo che ultimamente si era persa un po' perché con l'evento di tutti questi prodotti che arrivano dall'estero, il nostro fatto a mano e tutto si era perso un po'. Adesso con l'IGP che abbiamo avuto, che siamo riusciti a far conoscere più di tutti alle copp, pure sono stati i promotori di questa cipolla nostra e hanno iniziato a vedere che questo prodotto inizia a capire che è diverso dagli altri, perché è più dolce e ha meno sostanza secca, non è un ibrido. Facciamo tutto noi insieme e il seme fatto da più di cento anni è sempre quello, riprodotto sempre dai nostri produttori, sempre a mano nella nostra zona di Arenili. Queste sono ottime da fare al forno, anzi si cucinano senza acqua pure perché già ce l'hanno dentro l'acqua, ecco perché è più succulenta e ha più acqua dentro diciamo ed è più dolce, è fresca come cipolla questa qua, viene raccolta fresca, non immagazzinata e tu è venduta fresca e poi c'è meno sostanza secca, è diversa delle cipolle ibride che sono da conservazione.